La terza commissione Considiare Permanente e Attività Produttive, Territorio e Ambiente ha udito l'assessore regionale all'agricoltura sulle problematiche organizzative del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto in relazione alla situazione debitoria e alla mancata stabilizzazione del personale precario. La situazione debitoria dei consorzi, ha esordito l'assessore Mazzocco, dipende dal costo dell'acqua e dell'energia elettrica. Al momento, aggiunge, posso confermare un'apertura da parte dell'Apli per avviare un tavolo di discussione mirato a risolvere le situazioni debitorie. In questa regione, ha proseguito l'assessore, è stato annullato il tributo 6,60, riferito alle spese per le opere idrauliche e le opere irrigue. Pertanto, aggiunge, c'è una situazione da sanare definendo anche nel prossimo bilancio chi se ne farà carico. Dal 2003 al 2008, sottolinea l'assessore, è stato registrato un gettito di 52 milioni di euro, mentre sono stati incassati dal consorzio circa 39 milioni. Dunque, in otto anni, il consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto ha registrato una situazione debitoria di 12 milioni di euro. Per quanto attiene, invece, la situazione dei 36 lavoratori stagionali, ha dichiarato la Mazzocco, non lasceremo il consorzio da solo nella definizione delle assunzioni, in coerenza con il piano che individua le fonti di finanziamento.